E adesso una notizia che riguarda Aldo Palmeri e Alessia Camarota. Facciamo una precisazione? Noi blodders tante volte notiamo delle cose che poi non raccontiamo. Ossia misuriamo il tasto dell'amore di coppia dal numero di post di coppia che vengono pubblicati su Instagram. Lo so è un modo un po' empirico, ma vi posso garantire molto efficace. Come mai vi sto dicendo questo? Semplicemente perché è notizia di qualche ora, fa che fra Aldo e Alessia è tutto finito. Sicuramente ricorderete che Aldo e Alessia si sono messi insieme, a uomini e donne al termine, di una storia molto travagliata. I due sono andati poi a convivere prima a Roma e dopo a Catania dove si sono sposati un anno e mezzo fa. Ma soprattutto dove hanno dato alla luce lo splendido Niccolò. Al momento non si sa nulla sui reali motivi della rottura. Fatto sta che da un paio di settimane, c'era il sentore che le cose non stessero andando. Erano sparite le foto di coppia di cui sopra. Aldo e Alessia è finita. Fino quanto Alessia Camarota ha pubblicato questo messaggio su Instagram dove dice Forte come due, ma sei solo una. E ha allegata la scritta. The end. Al momento Aldo non ha replicato. Attendimo? Ma insomma purtroppo la brutta notizia c'è già tutta. Grazie. 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 Grazie.